Fare un film con i migliori. Lola Cuevas, la regista, è la più quotata in questo momento. Ivan Torres e Felix Rivero sono gli attori ideali per questo film. Prima prova, eh? Ivan è un maestro e Felix è una star a livello mondiale. A me interessa la tensione che c'è tra loro. Sono pronto. E non è la prima volta che io lavoro con un idiota. Io già vedo noi due ricevere un Oscar nel Dolby Theater. Siamo pronti? Scusami se ho un'elezione e scusami se non ce l'ho. Perdonami. Il poveretto è sposato da 28 anni con la stessa donna e alla fine si vede. Non ridere che nemmeno tu trasmetti molto, eh? Ora vi faccio vedere una cosa. Miserabile. Gretto. No. Un momento. Non finisce così. Manca la conclusione. No. 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 No.